La crisi economica ha costretto molti di noi a risparmiare sulle spese e a cambiare le abitudini. E' anche per questo che a Sassavi sta avendo successo l'unico negozio che vende capi d'abbigliamento usati, i cosiolotti vintage. Il negozio ha un nome particolare, si chiama Dada. Si chiama Dada perché parte dal nome di mia figlia, che si chiama Dharma. Dharma è una parola sanscritta, quindi molto antica. I Dharma sono gli obiettivi da raggiungere nella propria vita. Ho deciso di aprire questo tipo di attività per portare avanti un discorso ecologico. Quindi sia i capi d'abbigliamento a chilometro zero, quindi provenienti dalla mia città. Tutti i vestiti che sono stati venduti qui dentro in sette anni appartengono ai cittadini di Sassari. Nel negozio non si vendono solo vestiti, ma anche oggetti di arredamento e maschere per le feste. La particolarità è che tutti questi oggetti sono realizzati con materiale di riciclo. Manuela, la titolare del negozio, ha deciso di portare avanti un discorso ecologico. I capi esposti sono stati già lavati e non hanno subito tradamenti chimici. Il vero problema è che sta a Sassari non in Milano, dove il vintage è una moda. Però anche qui si sta fornendo una cultura del riciclo e il negozio dopo sette anni vede l'attività intensificarsi. Il carnevale è proprio un'opportunità per riuscire a lavorare su se stessi. Quindi io mi diverto tantissimo a carnevale. Il periodo dell'anno in cui in negozio mi diverto di più perché qui vengono le persone che vorrebbero mascherarsi ma non sanno come mascherarsi. E allora io li aiuto a trovare un loro personaggio. Curiosando negli scaffali si possono scoprire cose curiose, come questo strano vestito fatto in parte con carta fotografica. Insomma, un negozio ma anche una specie di mostra di curiosità, un luogo che merita una visita. Grazie a tutti.